Il disagio economico non abita nella Valle del Serchio, lo dicono i dati del settimo rapporto povertà-inclusione sociale in Toscana dell'Osservatorio Sociale Regionale relativi all'anno 2022. Secondo la ricerca i cittadini con ISEE inferiore a 6.000 euro all'anno nella Valle del Serchio si attestano tra il 5 e il 6,3 per cento della popolazione, ovvero il range più basso a livello regionale. La percentuale e quindi il livello di povertà sale se ci si sposta in Versiglia, nella Piana di Lucca e l'Unigiana, dove i cittadini con ISEE basso oscillano tra il 7 e il 7,9 per cento. Ma la zona con il disagio economico più accentuato è quella delle Apuane, dove l'indicatore economico è tra i più bassi della regione e scende sotto i 6.000 euro per una popolazione che oscilla tra il 7,9 e il 10 per cento. Il quadro è confermato dai numeri sui beneficiari del reddito di cittadinanza. Nelle Apuane lo percepisce il 6,39 per cento dei residenti, una delle percentuali più alte della Toscana, a fronte dell'1,79 per cento della Valle del Serchio, che si conferma tra le aree più benestanti. In Unigiana i percettori di reddito sono ancora meno, vale a dire l'1,72 per cento. In mezzo Piana e Versiglia, dove il sussidio viene percepito da poco più del 5 per cento degli abitanti.